ecco qua questa è la classica scena da codice della strada vedete non siamo al giro d'italia o una tappa non c'è né inizio corsa né fine corsa sono tutti in mezzo dovrebbero stare in riga invece vedete che succede che uno non può sorpassare perché chiaramente va bene che qui è linea continua non sorpassi ma deve rallentare perché c'è la gara ciclistica non autorizzata davanti a sé ora ci si chiede perché le piste ciclabili sono fatte e nessuno le utilizza punto di domanda perché in particolare i ciclisti che i cosiddetti amatori della domenica o della settimana invece di utilizzare le piste ciclabili utilizzano le strade statali per un semplice motivo perché dicono che non possono correre loro devono uscire a correre e questi sono i risultati ma te va ovvisi